Un paradiso da riscoprire, da preservare, da recuperare. La zona dell'ex mercato etico galleggiante di Via delle Fornaci, con lo splendido affaccio mare del quartiere Tamburi, sul primo seno del Mar Piccolo, di proprietà dell'Addemanio, è stata al centro della seconda domenica ecologica organizzata dal gruppo territoriale di Taranto della Movimento 5 Stelle. Gli attivisti, guidati dal vicepresidente nazionale, senatore Mario Turco, hanno effettuato una pulizia dell'area che andrebbe completamente riqualificata. Tra imbarcazioni abbandonate, ferro arrugginito e mare anerito, lì dove il re Umberto I si imbarcò per andare a inaugurare il ponte girevole. Noi continuiamo questo tour di riqualificazione e soprattutto di sensibilizzazione delle istituzioni e della città a riappropriarsi degli angoli più belli della città di Taranto. Oggi siamo qui in un seno del Mar Piccolo con i nostri attivisti per riqualificare quest'area e io nelle prossime settimane andrò ad incontrare i responsabili di questo degrado che sono di diverso tipo e sensibilizzerò poi l'amministrazione comunale alla redazione del piano coste perché senza il piano coste il Mar Piccolo non possiamo riqualificarlo né sul piano ambientale né rilanciarlo sul piano economico. È una zona meravigliosa che andrebbe arricchita da una camminata, da una passeggiata che parte appunto dalle Sciaie, che è un luogo storico, e arrivi e si colleghi direttamente al fiume Galeso. Siamo venuti a fare una pulizia in questa parte della città che è stata completamente abbandonata. Grazie a tutti.